Noi non possiamo più resistere in queste condizioni. Abbiamo bisogno di ristori e abbiamo bisogno di lavorare. Quindi aperture subito, immediate. Insicurezza, chiaramente insicurezza. La situazione delle nostre imprese oggi è drammatica. Come lo vediamo che stanno manifestando nelle piazze in tutti i modi per far arrivare la nostra voce di disperazione ormai perché non è più un periodo corto. È un anno e più che siamo in queste condizioni dentro o fuori dalle zone gialle, arancioni e rosse. Sulle riaperture è stato compiuto un primo passo. Ora bisogna proseguire sulla strada della fiducia. Al governo chiediamo di aprire bar, ristoranti e altri pubblici esercizi, non solo all'aperto, e di cancellare il coprifuoco delle 22. Anche sul fronte degli aiuti alle imprese bisogna fare di più e al più presto. Il prossimo 30 aprile finisce la moratoria su scadenze fiscali. Questa moratoria, che rappresenta una boccata di ossigeno per le imprese, va prorogata.